ragazzi mi mancava solo sto advest OBS user only windows user OBS quick virtual camera setup what più che altro bobe mi fa i gessi ma non ha non mi ha dato il suo di discord o mi ha scritto su discord ma non lo vedo in attesa Yoko Game Studio non vedo se c'è ma io mi pare che ce l'ho tra gli amici Power non mi ha mai accettato l'amicizia su discord comunque però ho capito perché non mi ha invitato ai games award e allora la mia camera sembra andare cioè se io faccio continua dovrebbe andare il problema è che sono tipo magrissimo che è una cosa buona ma come è magrissimo scusa ma io ti vedo in preparazione in corso come sei stricciato eh lo so però tipo la mia anteprima mi fa vedere che sono proprio lungo sono proprio tutto lungo fa vedere aspetta vieni dietro le quinte clicco vai ma sono anche ma non te vedo non sei tu sono anche in bianco e nero come come ma perché sei tutto stricciato non lo so Diego sono sono strano sono strano aspetta 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 eh non lo so come si può non lo so come si può aggiustare aspetta intanto faccio scusa che scena hai messo ma come scena non so che scena sia non so cosa sia sta roba come non sai cosa sia usa la webcam che usi solidamente e la metti lì nella fonte che è questa che è questa cioè è questa cioè è normale che si veda così però non è normale che sia così strasciato è normale Bove non lo sento però non ha capito su discord signor Maxung sono dimagrivo no buonasera chat buonasera come faccio a dire a Bove che devi venire su discord aspetta ma io non ho mai è che il problema Diego è che io non ho mai usato non ho mai usato sto cazzo non ti sento Bove tu mi senti buonasera chat buonasera anche a voi questa è la situazione in questo momento allora fatemi vedere se io tipo faccio qui scopri come configurare io più che scrivergli su telegram ragazzi è taggarlo stai nel mio discord non devi venire nel mio discord è una chiamata privata non nel mio mi devi scrivere in privato su discord Bove sembra 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 veramente gli zizi top comunque cioè tipo ho aggiunto gli amici accertami poi scusami Max niente niente vai tranquillo nel frattempo provare a vedere se riesci a distrecciare il cazzo eh sì infatti mi piacerebbe vediamo scopri come configurarla vediamo un po' come configurare questa cosa perfetto eccoci adesso ho capito che è video guest star e audio esatto e audio del porco il clero aspetta che ti sposto l'audio mi esce dal cristo non lo metto lo metto qua eccoci parlate un attimo senti la voglia max max devi accettare la colla a posto dai la prima volta è normale sbagliato ciao bove ciao diego buonasera a tutti bene stancarello però sono contento allora lui è un esperto di giochi da tavolo e l'ho conosciuto tramite nico pertici al video al come era? al video di bang il to play giocando a bangs esatto se non avete video nico pertici c'è bove ed è un esperto di giochi da tavolo e giochi di ruolo e e li crea anche i giochi da tavolo e il bove sì che è quello che provo a fare di mestiere tecnicamente max è in pre live li vedo sì sì beh è forte dai che bove sembri mio padre davanti al videoregistratore eh ce lo faccio buonasera Fabio buonasera a tutti comunque grazie DL grazie Saitama per essere con noi ma rega ma siete nell'altra conversazione io ero rimasto in quella vecchia no perché l'ha dovuta ricreare questo discord di merda apposta allora qual è il problema adesso tu parlerai così con la tua schermata d'attesa no 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 aspetta aspetta forse si può aspetta aspetta forse ho il modo se io cambio così però devo togliere la mia chat oh c'è la chat sì e c'è la mia chat no aspetta però è risolvibile è risolvibile tutti hanno lasciato a schermo ah ma perché avete avete messo non là il virtual ah sono attivo oi ci siamo aspetta aspetta oh non è più strecciato Pog ma quanto sei bello ah l'hai cancellato tutte le cose ok io tolto solo la chat la messica tranquilli ragazzi la schermata si si tranquilli tranquilli ma questo è un problema io come faccio adesso a streamare la mia cioè se io cambio scena adesso tipo cambia tutto ah Max ma ma perché mettete UBS metteteli direttamente la cam non è possibile che non ve la trova no la cam è diretta no ce la so avendola in live io no video capture sarà questa ok se faccio così fate virtual cam attiva su bs eccolo ha fatto ci siamo allora vabbè sei minuti di ritardo dai ci sta considerando che ho fatto prove tecniche tutto è andata da considerato che c'è la pille 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 assolutamente stiamo a giocare qua ecco io comincio a spammare il live motive comunque grazie pisco domanda tecnica cosa state streamando voi la che la faccia dice tipo io attualmente solo la mia faccia non so come perché anche voi siete in live cazzo sì 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 aspetta allora ti do ti devo dare però aspetta io sto strimando le scopole nostre facce su gestano cioè siamo tutti qua credo che vada bene vero chat a quindi sei direttamente strimando che star anche dove preso il link lì c'è link è quello mi è arrivata la notifica sono le tre cam quindi mi sembra posto allora allora tutti potete utilizzarla tutti certo ok aspettate io invece faccio il filo di puttana perché voi siete streamer io sono una merda devo non mandarmi messaggi privati mentre stiamo facendo gestare cosa cosa adesso però cosa c'è scritto no non posso fa così ah sì faccio così minchia attento che puttani a parte no è in video quindi sti cazzi del link non posso per il dm di bibbo mandare una foto del cazzo no devi usare il cazzo da mandare la foto del cazzo non so è il mio modo non vorrei che faccia roba è un cazzo di nasci aprilo codardo non lo apro ragazzi no vove aspetta aspetta ti spiego su su sulla live di guestare poi riprodurre la virtual camera giusto max come hai fatto tu sì allora praticamente vedi fotocamera virtuale dove c'è obs e bove l'ingranaggetto accanto fai seleziona fonte e devi ricordarti come si chiama la fonte ma voi state parlando di obs vero sì sì non lo dio bs merda stream labs forse dovrebbe avessero spero però guarda sì ma io ti vedo io vedo la nostra cam di nuovo capisci questa lo so allora no facciamo così le persone guarderanno nome così e a voi vi metto mignon va bene in cima eccoci qua però è tatticcissima questo mi piace ma io faccio altro di me faccio i giochini mica faccio lo streamer voi che cazzo volete quindi saremo così ok quindi rifaremo che cosa orribile secondo me dai è onesto è onesto ci può stare ho capito ho capito quindi ci sarà il loop nella tua cam all'interno della cam della cam del loop della cam eh sì è tipo bove frattale ma questo perché mi serve mi serve pure per prendere lo stimolo per un'altra ma perché non stai usando bs che stai usando allora io uso stream labs perché siccome c'ho la 104 ok non so settare tutte stream elements eccetera stream labs io faccio come i poveri stronzi gli do tipo 90 50 euro all'anno fa tutto da solo ok non devo fare un cazzo e ti devo dire la verità sarò povero però a verità la prossima volta bisogna fare un briefing prima per spiegare bene come fare non avevo capito questa cosa quindi vabbè non fa niente sennò ve l'avrei spiegato istantaneamente come fare per configurare tutta la live senza problemi tipo max ha preso direttamente la fonte e l'ha messa nella sua fonte cioè in realtà sono andato a caso e adesso il risultato comunque c'è va benissimo non bomba perché sono stato tutto però da quello che so ci sono tutte le chat unite da qualche parte tutti sì 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 davvero sì io c'ho la chat dovrebbero dovrebbero esserci la giga chat proprio dalla roba dovrebbe esserci la giga chat da qualche parte non so dove sta per essere eliminato dall'albo dei grafici e di meta slime che mi viene a mettere a posto la roba no io non c'è solo la mia non so perché voi avete le chat unite beh e c'è la chat quella accanto che credo sia unita perché effettivamente una fusione gigante o forse no fammi vedere no secondo me questa forse è solo la tua Diego no mi sa che è solo la tua Diego sì 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 che no 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 allora vedi non sono uniti va bene che casino sarebbe stato bellissimo però allora io ho contattato max e boi perché hanno la barba lunga sono dei sembrano proprio dei nerd classici max è un super nano e boi è un sono sempre stato un nano pure io devo dire la verità tutti i nani però io sono stato un nano bardo oh mio dio tutto orizzontale adesso come tutto orizzontale che cliccato è larga la chat è nascosto la chat a destra sicuro no ho fatto ho fatto sono pronti eccoci e praticamente ok hai fatto se no se ti sposta no vabbè non fa niente fa niente e praticamente vabbè esperto in materia c'è non so quanti giochi da tavolo la sottolipendente vive in un posto che è tipo a tre piani lui è in un suo palco poi c'è il piano terra e poi c'è il piano sotto che è pieno murato di giochi da tavolo di tutti i tipi edizioni super leggendarie antiche di ogni tipo e tra l'altro era la persona che aveva voluto contattare per fare una sessione di dnd seria come avevamo detto ambientata in un periodo medievale ma con i mostri a tema mediaset sì ottima però poi la cosa è saltata l'unità che ci ha avuto tipo a novembre cioè non è che è saltata è stata posticipata troppo magari si potrebbe fare adesso prima o poi in una sessione si potrebbe fare si farà comunque ringrazio aris wolf che mi ha dato il consiglio della vita quale che mi ha fatto mettere voi due in microcamera sembriamo il cerbero però vaffanculo almeno ci io non sono duplicato va bene va bene e poi c'è max che invece è ossessionato dalle sessioni dnd da roleplay e quindi non vede l'ora di fare roba l'altro giorno stavate parlando il gruppo telegram di una roba non so che aveva proposto pove allora partiamo subito dal presupposto che i giochi di ruolo non solo solo dungeons and dragons e vabbè e questa cosa fa messa subito dobbiamo mettere subito col cazzo dritto per terra perché non giocheremo solo a dnd se giocassimo se giocheremo se giocheremo però è vero che ho spottato già dei giochini da un'ora che secondo me nell'ora nel caso un'ora e 20 proprio male che vada ci stiamo dentro dei giochini da fare così a distanza webcam sì 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 ma gd ronica esatto esatto l'ho detto sì sì l'ho detto facciamo la pille di gdr facciamo la pille di gdr la pigiter si può fare e poi niente come episodio pilota io volevo un po parlare innanzitutto introdurre le nostre esperienze tipo la mia che è una merda ho fatto soltanto due ovviamente esperienze di giochi da tavolo barra sessioni di dnd eh sì 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 io non ho fatto veramente poche di sessioni di dnd ne ho fatte tipo due e dai con i miei amici storici dei castelli con dei master un po particolari alcuni erano un po particolari tiravano fuori delle cose del cazzo con dei compagni di squadra un po particolari che si suicidavano niente di nuovo sotto al sole e con i miei amici che dicevano su minecraft dici o proprio proprio no 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 dal vivo nel senso gioco proprio dal vivo a voce col master con il librone praticamente praticamente la storia di dragonlands ricelin tragedia toste si no che il tizio che rosica e prende se butta contro i nemici e si suicida ok e io diciamo ma scusa ma adesso non diciamo ma rosicava e poi quindi ha fatto il mossone per dire ma ha rage quittato in quella maniera e noi dicevamo guarda che cioè è un po strana come cosa è un po incoerente mi frega un cazzo ma ammazzo si ammazzava e diceva mammo scusa mammo sei uscito con giochi più no vado a fare una canna ciao e quindi succedeva spesso che c'erano queste cose perché il suo personaggio magari boh prendeva un danno e non voleva prendere si ridicava cioè diciamo tutto sommato un po bove confermerà è uno dei delle possibili delle possibili trappolone di quando si prova organizzare a fare qualcosa ci sono vari tipi secondo me di giocatore che sono un po più spigolosi di altri nell'adattarsi nel giocare uno di quei uno potrebbe essere quello che rosica è un po il traiarderone no l'altro potrebbe essere il traiarderone da un altro punto di vista quello che il mio personaggio non farebbe in questa maniera quindi la mia interpretazione master sarebbe in realtà quella proprio quella più sgodevole per la campagna in generale quindi io continuerò a farlo così perché sennò andrebbe contro il mio background un po questa roba così ebbè o power play o power gtr pochi cazzi esatto infatti io all'inizio ho scoperto di questi termini che di gente che diceva che guarda tipo c'hai il personaggio tutto con l'armatura pesantissima eccetera non puoi iniziare a fare delle caprole velocissimo a saltare o a fare robe assurde no no lo può fare il personaggio mio è così ma quando l'hai deciso che è così lo fa lo fa io so così è militare gigantesco con 18 di forza può farlo si si perché ha fatto gli allenamenti tipo Goku mai scritta sta cosa hai capito quindi no boh ma questo è un problema che comunque viene dai giochi come di D&D eh dove la costruzione del character è la cosa più fondamentale perché comunque nasce come skirmish di miniature quindi il regolamento e le basi del come si chiama delle regole proprio per esempio il D20 system per D&D danno più impeto a queste derive di GDR beh sì un po' marcio allora D&D nasce come un gioco di miniature dove si dono mena comunque grazie a tutti che state entrando in questo momento nel frattempo mi sento così gratificato però detto questo il fatto è che tu quando nasceva D&D era per muovere ste cazzo di miniature e menarsi ok poi è arrivata la parte ruolistica dove tu interpreti il tuo personaggio ma se vai a vedere tutta la costruzione dei character le armature le spade i talenti le cose tutte servono per buildare mega personaggi mega character di Cristo che servono solo fondamentalmente per menarsi cioè cioè tutto focalizzato su quello infatti non è un caso che dal punto di vista tecnico la quarta edizione è l'edizione più bella in assoluta perché i combattimenti sono purissimi, bellissimo, tutto così e le altre edizioni sono proprio più ruolistiche tra l'altro è quella più controversa però la quarta edizione eh sì è quella che tutti hanno odiato perché non si ruola sì che però in realtà forse era la cosa più sensata per come era partito D&D vuol dire non si ruola è una take interessante è che sembrava siccome sulla parte di combattimento ci avete presente faccio un concetto molto semplice voi che giocate un sacco ai videogiochi ci avete presente tutti i browser game che hanno delle tempistiche ben scandite prendete come cazzo si chiama? Agarillo 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 ok quelli là tipo che dovevi aspettare aspettare Lords Mobile Lords Mobile punto esclamativo ok no non c'è però il concetto è che tu sostanzialmente c'avevi queste mosse che avevano dei timing ben specifici e quindi dovevi aspettare per ricaricarle e quindi dal punto di vista di combattimento meccanicamente era un gioco di Cristo che è un sistema di gioco che se volete fare solamente in menaggio di miniature vi consiglio tantissimo ma questa cosa qua di avere delle tempistiche scandite non ti permetteva di fare le mega magie di ruolo per cui prendo Diego lo faccio volare in cielo non coincidevano con le tempistiche dei miei contro te dei miei contro te esatto e quindi questa cosa qua non faceva collimare il ruolo con le azioni in gioco perché era troppo troppo schematico troppo matematico allora se volevi fare la mossa più bella dell'universo dove scagliavi il nano con la porpa all'immano per tagliare la testa al balrog non lo puoi fare ok cioè questa roba qua la gente ha rosicato questa cosa a voglia infatti la quarta edizione è quella che è durata tipo due anni subito hanno cagato la quinta mi ricordo che fu abbastanza una blanderata anzi poi con la quinta io ammetto che ho smesso di seguire un po' di D&D già quando ci giocavo io e ho iniziato con la terza cioè sono arrivato in coda alla seconda sì mi ricordo che andai nella cara vecchia fumetteria di Trenton di Trenton di Trenton di Trenton proprio esatto ok e il caro vecchio trilogi di Vicolo del Vo che poi chiuse completamente quindi no eh sono quelle robe sai che rimangono nel passato tipo ricordi nostalgici di andavi in fumetteria gigiolino vedevi tutti sti cosi di dadi di diventi dicevi merda è un mondo incredibile c'erano tutti i goblin la fumetteria dietro per noi per noi persone strane ti avevo letto beh per noi persone per voi persone strane per voi normali hai capito per voi normali quel posto incredibile che puzzava di merda di carta putrefatta io l'ho mai sentito no di 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 palle di sottopalla e di ascella cioè ah va bene il classico Romics 2017 cioè per forza quello dove hanno tirato il cornetto mi ricordo arrivai quindi in coda da D&D e io sono stato il primo allora le primi primissime sessioni che ho fatto che non avevo ancora manuali con amici le feci con D&D però tipo poi quando mi presi manuali mi ricordo che andai in fumetteria e mi disse guarda qualche mese ed esce la terza aspetta per la terza peraltro mi mangio i gomiti perché in realtà io avrei voluto adesso avere dei cazzo di manuali di D&D vecchio perché lì adoro quello stile grafico io l'ho rubato a mio cugino bravissimo bravissimo io ricordo cazzo cioè non lo so poi io sono molto legato a uno stile anche proprio di immagini roba anni 80 ma perciò vi ho detto facciamo le fotografie alla Giulia Crossbow in posizione così cioè ah e così facciamo le miniature già sto mettendo su fate fotografie brutte dobbiamo sceglierci una classe come le miniature attenzione c'è il copyright qua che segni tu? no scherzo chi fa le miniature? no no nessuno nessuno senti ma possiamo sdoganare il fatto che D&D Dungeons & Dragons vabbè non è un gioco per donne sì sì te lo sdogano c'avevo amiche femmine con cui giocavo a D&D già a 14 anni e ad Avellino perché eh perché nel nostro ambiente quando giocavamo noi non c'era mai una ragazza sempre uomini sempre uomini uomini poi ogni tanto una c'era però era la ragazza del tipo che giocava che si metteva là per disperata per non spararsi in proiettili in testa si metteva là vabbè dai gioco pure quindi tiravano il dato a metà con due mani unite e tiravano il datino però sicuramente si è ampliato adesso il pubblico anche femminile negli ultimi anni si è sdoganata appunto sdoganare sì ma pure nel gioco da tavolo ma questa diciamo che ne parlavamo non mi ricordo con chi ma è perché le donne le fanno smettere di giocare prima noi ci abbiamo come uomini è un discorso serio nel senso te fanno morire il PG donna subito? no 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 le fanno giocare prima le fanno smettere di giocare prima in famiglia perché a 13 anni 12 anni qualsiasi fino a poco tempo fa quando eri donna tu non dovevi più giocare dovevi essere la donna di casa e questa cosa qua ha settato un mindset per le donne che si sentono in in disaccordo con le persone che giocano ci hanno messo tempo per dire lo vogliamo fare pure noi è un po' delicato secondo me eh no lo so però è vero che è successo no no sì no vabbè è colpa dell'arcato sicuramente la mentalità quella lì del non è una cosa da ragazze è quella che fa più danni in assoluto uno tipo si sente la pressione sociale esterna di dire no non sono interessi che io dovrei perseguire che dovrei perseguirne altri esattamente alla fine secondo me la cosa fondamentale è la propria individualità quello che ti piace è stare dietro alle cose che ti piacciono ma infatti oggi è molto più libero oggi è molto più facile secondo me grazie a Big Band Theory in qualche modo pienamente d'accordo no no in qualche modo totale Big Band Theory ha sdoganato questo mondo grazie a Penny e al suo amore per Leonard Leonard e alla fine no vabbè però ci sta che abbiamo sappiamo tutti che c'è un club Van Damme Leonard l'unico vero Leonard no ma ci sta che abbia sdoganato tante robe poi in tutto tutto il mondo occidentale più che altro credo no però è vero ma tutte le passioni nerd sono arrivate dopo per le donne purtroppo il GDR è quello che aveva avuto la nicchia più dura sì sicuro però è vero che tutte le altre cose cioè pure le ragazze che giocarono a WoW con me erano prima a WoW World of Warcraft non so se a di World of Warcraft no sputtanato che cazzo cambia eccoci qua pronti questa cosa qua purtroppo ci abbiamo messo una vita intera prima di riuscire ad avere la libertà di dire grazie che così almeno tutti e tre con la barba mi sento meno in difetto posso fare questa cosa per me puoi fare tutto quello che vuoi mi sa che tira fuori il cazzo no però va bene anche quello al massimo va però è vero che ci abbiamo messo una vita e fortunatamente con l'amplificare ma pure grazie all'internet fortunatamente che le donne adesso giocano e abbiamo conquistato questa cosa poi ci sono dei testa di cazzo che ancora dicono ah le femmine non devono giocare però oddio è veramente una cosa che non in realtà non l'ho mai sentita però non la sento ah no una volta l'ho sentita però ero parlo del cerbero lo so no no fissato col cerbero e no ritornando a 2005 6 avevo 18 anni giocavo ad alo 2 e c'era sto tizio di salerno che era un militare gigantesco sai proprio era tipo era gianzina fisicamente era gianzina ok che giocava ad alo ed era fortissimo ok che mi diceva che lui non aveva non si era mai lavato i denti col dentificio perché dice che erano perfetti e non aveva bisogno di lavarsi i denti col dentifricio ok mio padre e ha detto e ogni volta io gli avevo detto che avevo conosciuto una tipa su alo 2 che giocava a toscana e lui mi diceva ma non è possibile ma come no no non è possibile sarà un bambino con la voce da femmina non è possibile ma perché no no le donne non possono le donne devono stare a casa a stirare possono giocare i giochi non ho mai visto una donna giocare i giochi ma scusa ma perché no di cazzate ci aveva dato mi dava i pizzoni perché vabbè era gigantesco e poi andavamo a giocare e quindi questa è stata la mia esperienza l'unica volta che ho sentito una persona dire questa roba però non ho mai sentito una frase del genere sento spesso sui videogiochi si nota forse di più sta cosa anche perché mi viene da dire che forse il gioco di ruolo essendo dei gruppi è lo stesso che ti ha spiegato che non bisogna lavarsi le mani dopo pisciato che venga fuori sui videogiochi invece si vede tanto chat vocale appena c'è anche proprio il timore per certi versi sai no di esporsi parli in chat vocale la gente sgama che sei una ragazza alle volte tipo c'è anche proprio il momento nerd brutto che ti risponde o che ci vuole provare a fare lo slimer oppure che dici no ma come la ragazza nel team cioè quella roba è così cioè sui videogiochi si sente mi sa che era venuto fuori un tiktok ultimamente proprio che avevo visto a riguardo con sta ragazza che aveva detto una roba e l'hanno tipo chiccata così solo perché ah si era su overwatch forse 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 si che è entrata hello oh my god we lost abbiamo perso il fatto sai che è che nel gioco da tavolo di ruolo questa cosa ovviamente non avviene al tavolo al gruppo che sta giocando però quando vai nelle fiere vai negli eventi o nei gruppi di community li vedi questi discorsi del cazzo e quello è il problema è che nel videogioco ovviamente è immediato dice ok entrare in un server a buffo e rosichi però nell'altro caso io ho fatto una scelta non il ferro da stiro ma o glumeven ciao silvia ma invece hai vostre esperienze in giochi di ruolo dal vivo l'ARP sì l'ARP l'ho fatto una sola volta anche non è per me io sono andato lì però non ho partecipato ero fuori io sì mi diverte pure però c'è presente quando ti diverte ti diverte per il motivo giusto o per il motivo sbagliato qual è il motivo giusto e qual è il motivo sbagliato il motivo giusto è che tu sei dentro e ti diverti a giocare il motivo sbagliato è che tu lo vedi con un occhio un po' cringe e cringi no 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 non cringio non cringio cioè per lo stesso motivo allora non dovrei giocare nemmeno di ruolo in teoria no io il nord di acqua dai diverso secondo me ah no non so d'accordo sicuramente diverso no ti giuro no no guarda aspetta io ho giocato ho giocato a a dnd e non ho mai cringiato anzi vi ridevo e mi divertivo poi sono andato a dunlarp a do cazzo stava a terni forse in questo fighissimo castello medievale c'erano tutti i turisti che giravano il castello perché stavano lì per vedere il castello e nel mente che c'erano i turisti che erano i civili c'erano questi che ruolavano e c'era anche il contesto questo perché c'hai il pubblico porca troia eh vabbè io ero il pubblico e c'era sto signore che aveva avuto 65 anni che prende questa pergamena e in mezzo a questa piazzetta all'interno del castello inizia a leggere ad alta voce questo cazzo questa pergamena proprio mettendoci tutto se stesso io sono dovuto andare via sono dovuto uscire allontanarmi mettere le ditte nelle orecchie cioè era la cosa più cringe che abbia mai sentito quindi era il momento Dice of Cringe proprio preso malissimo cioè tu non ce l'hai fatta te fisicamente no perché era convinto dicevo uomini di unitemi tutti insieme per combattere faceva tutto sto discorso così io solo che era era cringe perché non palesemente non non riusciva cioè non era ne un doppiatore aveva una voce normale non era un attore non era troppo overreact allora io sono giunto alla conclusione che non lo so anche un momento full cringiata un po' lo abbraccio il momento full cringiata dell'R è un qualcosa che non lo so forse si deve avere una soglia alta di tolleranza verso la cringiata ma secondo me no perché se tu becchi quello bravo ci stai l'hai visto pure nel roleplay è che il problema è che la maggior parte sai siamo tutti dei nerdacchi quindi non abbiamo delle doti attoriali ma non è una doti attoriale secondo me secondo me non è una dotatoriale appunto cioè io non sono un attore te non sei un attore lino non era un attore parlo del roleplay su gta cioè non c'erano attori c'erano alcuni io con alcuni cringiavo e con altri no dal tuo punto di vista con alcuni cringiavi altri no io forse è una cosa personale di boh a pelle con alcuni cringia e con altri no e non pensi che possa essere effettivamente le doti la modalità di esporsi così o è semplicemente che cos'è secondo te allora cioè da dove deriva la cringiata del come si chiama il contesto magari secondo me è il contesto forse in quel momento io ero cioè non avevo ben capito perché c'erano questi che facevano questa roba nel mente che c'erano i turisti tedeschi che stavano aprire il castello quindi dicevo oddio 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 che cosa sta facendo e poi vabbè si su GTA magari c'è proprio il contesto che è tutto chiuso cioè non c'è un vero e proprio pubblico c'è un diverso GTA non sei il punto non sei vestito anche e poi a pelle cioè a pelle boh ma poi c'erano questi tizi pure questi tizi grossi palestrati con l'armatura ecco e l'arp di vampire quello si mi cringe a Jade ti devo dire la verità io ho fatto l'arp di vampire l'unica esperienza che ho fatto è stato un larp di vampire ed è stato peso ed è stato molto perché vampire sono ad altissimo no che cazzo è l'arp di vampire cioè che cazzo vampire è un gioco di ruolo ok hai presente l'ambientazione di vampire Diego è tipo sostanzialmente una specie di urban fantasy ok fantasy però in un contesto urbano molto gotico ok e dove nel mondo normale cioè nel mondo attuale però in versione un po' più oscura ovviamente ci sono i vampiri nascosti tra gli umani e tu devi capire chi so esatto si chiama world of darkness l'ambientazione estesa quindi ci sono vampiri come un lupus clan però no no attenzione non c'è solo il ruolo nascosto nel senso ci sono anche famiglie di vampiri che si frequentano c'è una nobiltà di vampiri c'è il sesso c'è il sesso tra vampiri esatto è proprio una società di vampiri che vive appunto nell'ombra della società normale o almeno diciamo una grossa fazione la camarilla vive nell'ombra perché dice noi non possiamo esporci perché comunque a livello numerico siamo molti di meno dobbiamo cibarci del sangue delle persone e dobbiamo cercare di mantenere questa apparenza di normalità nel mondo dove noi sfruttiamo gli umani come se fossero del bestiame ci nutriamo di loro e nel frattempo però tipo tramiamo è molto politico però come almeno soprattutto Camarilla poi ci sono altre fazioni che sono un momento più incazzate tipo il sabato però è comunque un gioco abbastanza più di diplomazia esatto meno mazzate meno mazzate più diplomati vivimos in una società io feci appunto un larp di vampiri peraltro era un larpone da quello che ho capito esteso a varie ma questo è un problema sparsi per il trentino con un'ambientazione un po' un po' fatta in casa tipo anche della roba strana quindi c'era un tipo per chi è esperto un attimo c'erano addirittura i cappadociani messi in mezzo c'era una roba che in teoria si sono estinti nel medioevo a livello di clan e il problema in realtà mi divertì anche un po' però era il problema principale è che sentivi tantissimo la differenza tra playerini tipo me che lo affrontavano per la prima volta erano appena arrivati e quelli invece storici che alla fine facevano la loro politicata così solo che letteralmente ti escludevano dai talk importanti quindi alla fine la serata fu una specie di roba 90% delle persone in costume che ruolavano tra virgolette in realtà facevano due ciaccole e gli altri invece che in teoria ruolavano e c'erano i colpi di scena e tutti dicevano bella però mi ricordo che conobbi anche un paio di persone che possono diventare mie amiche quindi alla fine fu divertente cosa positiva no non ho niente scopato anzi vennero fuori dei triangoli strani comunque questa cosa ve lo dico in Italia gioco di ruolo e sesso non sono legati mentre in tutto il resto del mondo sì cioè in Spagna scopano mentre fanno mentre mandano le palle di fuoco Svezia e Danimarca no palla di fuoco se la faccio adesso teoricamente voi dovreste piegarvi in avanti così quindi è palle di fuori palle di fuoco ti faccio le palle di fuoco e tu oh dio ok no però in Svezia i gruppi Sadomaso e quelli di GDR e LARP sono molto intrecciati per esempio questa è una bellissima informazione sappiatelo perché c'è del sex positive nel GDR poi appunto e per piacere chiamiamolo GDR non RP quando stremmate i cazzi vostri chiamate RP sì 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 in mia presenza chiamatelo GDR perché se no faccio esplodere il B&B è diventato quindi una specie di una roba del genere bove cioè praticamente la scusa di ti offro un divano per evitare di prendere un hotel che in realtà era diventato una specie di circolino per tutti per scuparsi no no non solo non solo no ma in maniera molto aperta in realtà in maniera molto tranquilla molto pulita devo essere onesto ok 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 purtroppo non mi ci sono mai trovato nel mezzo ciao Florinda ti amo però ma posso fare una domanda devo fare una domanda assolutamente allora come dicevo prima a Bovi Bovi lavora in questo campo proprio va a tutte le fiere del mondo presenta i giochi mostra i giochi vende i giochi cioè ci sta dentro fino alla capoccia io ho portato i giochi e ha portato i giochi guardala che collezione oltre a questo volevo dirti quanto sta in crescita o quanto è in calo questo mondo nel senso la gente si sta sempre più interessando a questa cosa e il mondo è in crescita allora voi ci sono stati secondo me due tre fattori determinanti allora c'è stato un nuovo rinascimento dei giochi di ruolo da tavolo tra il 2012 e il 2018 2019 proprio rinascimento dove effettivamente le persone hanno ricominciato a prendere i giochi di ruolo hanno ricominciato a prendere i giochi da tavolo e hanno inventato proprio nuove categorie de giochi che sono diventati dei classici hanno unito anche giochi per il pc computer eccetera su giochi di ruolo da tavolo beh sì pure perché come al solito le ip sono sempre quelle che funzionano di più è ovvio che quella roba la aiuta notevolmente le vendite però è vero che fortunatamente è un bellissimo cane che si morde la coda chi gioca the witcher e compra il gdr di witcher si appassiona e così e vicendevolmente io vorrei troppo un gioco da tavolo di zelda eh mi sa che per ora non ce l'avremo perché nintendo le ip non le concede facilmente fai una cosa simile eh esiste un tiny epic dungeon e un tiny tiny epic quest che sono tiny epic quest se lo vedete è proprio il mondo di zelda del primo del primo nintendo però immaginatelo a colori e non in 8 bit ed è un giochino da tavolo bellino ci sono i mipolini che sono quelle figure in legno che stanno così che ci puoi mettere le armi sopra da montare un gioco cooperativo carino sfiziosello è una scatola grande così ma costa 30 euro però quello è coglioni di brella è perché sta solo negli stati uniti in italia non ci arriva lo devi importare palle si cazzo ai stati uniti però è il secondo mercato più importante del mondo del gioco ma il primo la germania in germania gioca un sacco i giochi di ruolo e da tavolo principalmente si cazzo dei tedeschi si perché c'è sempre stata tradizione tedesca di gioco da tavolo si narra che uno dei capi di stato della germania che non nomineremo giocava un sacco e anche nelle strategie usava i giochi se andate nelle stazioni dei treni in germania grazie mille ragazzi che state entrando se entrate nelle stazioni in germania dei treni ci sono i trenini a parete dove voi mettete il 50 centesimi e potete correre quei trenini giocare quei trenini quindi hanno proprio una tradizione ludica per le famiglie è un'attività importante è come per noi un sabato sera andare al bowling per loro è andare nei club di gioco da tavolo ma ci sono i club addirittura si 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 in Italia ci sono i ludopub e ludopatici mi sa che si era calato troppo nell'RT e tu vai a giocare però principalmente mangi che figo però cazzo cioè tu vai là mangi e poi vedi che c'è 60 euro dai ti unisci con la gente dai fammi una sessione unisci è più difficile però ci provi magari più che altro ci vai là con il tuo gruppo di amici dici oh il tavolo è anche disponibile per starci tutta la sera birrazze patatine giocatone di ruolo assieme esperienze incredibili che figata sì in Italia è più vai col tuo gruppo e passi la serata in Germania in Inghilterra invece può essere anche più ampio il discorso per esempio in Inghilterra c'è un ludopub incredibile che tu paghi l'ingresso 6 euro ok 6 6 perché ti dà la possibilità di giocare tutti i titoli che vuoi in modo che con quei 6 euro se si perde un pezzo loro hanno i ricambi certo perché almeno c'è una cura del prodotto che vai a intavolare cioè che normalmente non si ha per mille e uno motivi perché poi appunto le mani unte i cazzi e i mazzi dovresti pulire tutti i giochi e la classica esperienza da bar slash pub italiano dove uno va a prendersi il genga e mancano metà dei pezzi e dici e mo che come cazzo giochiamo come cazzo facciamo giustamente ma infatti il GDR da questo punto di vista è molto più facilitato tu c'hai un volume come questo ti basta questo eh ti ho portato il sesso eh ti è piaciuto il sesso fatto carta ma infatti Morkborg è una di quelle cose che possiamo giocare in live da un'oretta un'oretta e mezza amore ciao fede allora è un giochino old school ok dove le cose sono ridotte all'osso a parte dall'osso per la copertina però sono ridotte proprio al minimo e il gioco si esaurisce veramente è un libro game no 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 questo è un GDR sembra fatto come un aspetta black metal fatto a GDR esatto facciamo come gli stronzi fanno per davvero cioè ogni ogni pagina è fatta in una maniera come una fanzine infatti è anche difficile da leggere bene con questi colori matti ah questo è giallo non lo vedete perché ovviamente c'è il green screen e quindi il giallo non lo legge però è fatto in cui ti spiega l'ambientazione quali sono i problemi quali sono le cose che accadranno e il gioco può durare da due giorni a sei mesi di tempo perché sta arrivando l'apocalisse no in in time però ecco per noi se giochiamo i due giorni è un'ora di gioco ok sappiamo che tra due giorni arriva l'apocalisse per noi è un'oretta di gioco è tipo è tipo Dragon Ball l'episodio di Dragon Ball esatto per esempio questa è un'arma e ti dice che il femore è un'arma tiri il D4 cioè cioè questo è un manuale minimalissimo che invece se compareresti tipo questa cosa tipo a un D&D cioè per arma qualunque hai tipo una tabella lunga così di statistiche e roba del genere esatto vai fatta sappi di 4 devi lanciare questo basta è un volume di boh 200 pagine al massimo forse manco 100 pagine 70 pagine facciamo 80 formato a 5 ed è tutto qua mentre per D&D hai bisogno di 3 manuali ok e questo qua è uno dei giochi che vi vorrei far provare perché appunto è come D&D ma sul lato combattimento più spinto più sporco più lurido o se no avevo pensato una cosa invece più fattore meme che quanti cazzo ce ne stanno allora qua sopra solamente ce ne stanno una ventina però tu te lo ricordi che ne ho un po' di più ma quello che voglio giocare è questo ma adesso Greenhawks ma Greenhawks sono due vecchi sono due vecchi e si presenta come una brochure ma che cazzo è scusa ma infatti sembra la brochure dell'ospizio perché noi giocheremo vecchi che vanno in un ospizio che cazzo famo a giocare a distanza scusa si preoccupa si usa discord per il rorlaggio dei dati con un comando e si fa famo la prossima sessione perfettamente dedicata alla prossima lo spoiler per la prossima puntata se non per la prossima per la terza però ok però si tra l'altro Greenhawks l'avevo già chiesto ma lo chiedo anche a tutti così la chat poi non è quello ispirato da BabboTap perché ce n'era un altro che era credo uguale però aveva proprio il nome non so se lo conosci Diego c'è un film inizio 2000 con Bruce Campbell cioè per farvi capire come e Bruce Campbell è quello di dell'armada delle tenebre esatto l'armada delle tenebre ok 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 ma dell'amore della morte esatto solo che quello invece è Rupert Everett non è Bruce Campbell però grazie sono uguali sono uguali cazzo la trama la trama di questo film era lui fa Elvis cioè almeno fa l'impersonatore in teoria dice che fa l'impersonatore di Elvis ma lui dice di essere Elvis sul serio che non è morto è finito in casa di riposo e in questa casa di riposo arriva una mummia tipo vestita da cowboy che succhia letteralmente le anime dal buco del culo dei vecchi per alimentarsi e quindi c'è Bruce Campbell Elvis che si incontra con John Kennedy che anche lui è vivo ed è nero peraltro e dice di essere stato sostituito sostanzialmente gli hanno messo tipo un sacco di sabbia nel cervello e si trovano loro due vecchi a dover combattere contro questa mummia per dire la cosa paradossale ma che cazzo di film è? è un film è un film che dalle premesse sembra ultra trash e lo è però ti fa venire i lacrimoni cioè è un film che ti dà dei pugni nello stomaco a livello di dialoghi fatti ed è meraviglioso e sapevo mi ricordavo che c'era un gioco che avevano proprio tratto da quell'ambientazione no no questo non è quello non è lui però è simile come idea sai caso dei pochi vecchi epici che fanno roba epica però in realtà qua di epicità c'è poco cioè questo è più vicino ma quello è poco vecchi quindi questo è proprio Villarzilla hai capito? questo è casa Pianello cioè dove stanno vecchi che devono interagire tra loro e che cazzo e qual è l'obiettivo? devo dire i dati per farmi da sedia per andare al bagno che ne so c'è presente che fa parte di ma infatti io la prima cosa che mi è venuta in mente è fare l'ex veterano Marcio che proprio si sveglia tipo i lanci tipo il semolino tipo in mezzo alla menza tipo roba del genere o che ne so il servitore che ti vende il fumo e tu vecchi ti metti là a fare le cose cioè il fatto è che l'obiettivo non c'è è una narrazione diversa da quella supereroistica perché il problema è quello pure D&D bellissimo bellissimo amo D&D va bene non sembra ti voglio bene basta però non esiste solo D&D cioè il supereroismo a tutti i costi ci ha rotto il cazzo siamo pure ogni tanto dei vecchi di merda oppure che cazzo no ma ci sta infatti è particolare è atipico c'è MassGuard che è basato sul fumetto siamo topolini che hanno sì dei fattori supereroistici però i nemici sono i serpenti le volpi i gufi i granchi e non è fantasy è low fantasy perché non c'è la parte magica c'è tutta la parte di noi piccoli topi che comunque affrontiamo il mondo che è decisamente più grande di noi e questa cosa è incredibile c'è e poi sei vecchio ogni cosa complotto macchinazione tecnologia oscura tra le altre cose tra le altre cose senti vedo una cintura del wrestling aspetta lui è un grande appassionato anche di wrestling sì e c'è anche un GDR sul wrestling tra le altre cose io sono appassionato di wrestling ma nostalgicamente il wrestling anni 80 e al massimo la attitude quella che ci hanno vissuti tutti nella nostra infanzia Tom Gould The Rock però anche quello è roleplay io ho quella passione da da much or man Randy Savage per capirci è il mio fratello io e te siamo la stessa persona no lui è il santone dello svapo il santone dello svapo sì sono tutti proprio gli unfun terrible tocca prendere tutti gli streamer di creator con la barba lunga tocca avvitare il santone dello svapo è che tra le altre cose nei videogiochi di wrestling era se tu facevi se vedevi la skin erano tutte lo stesso cristiano erano tutti uguali con la barba e i capelli lunghi fatti allo stesso modo cambiavano solo gli occhi come tra l'altro a me e max sostanzialmente occhi e naso cioè non cambia un cazzo vabbè c'ho i capelli blu no comunque vi devo far giocare mille cose per esempio ti dieni questo vi voglio far giocare di inizio Brancolonia le conosco i ragazzi le conosco anche di persona proprio ah conosci Mauro i ragazzi di Acheron ok Brancolonia è quello che Diego voleva fare di principio secondo me fittava bene col suo ah per la cosa della mediaset per la cosa della mediaset perché mo ci vuole vi faccio vedere un'illustrazione incredibile con il gabibbo tutto satanico con i coltelli Joaquin iniettati de sangue esatto chi è questo è Badona è Baspencer esatto quindi siccome è tutto basato sul folklore italiano ricreare il folklore italiano era un attimo io mi immaginavo su questo voglio fare una flexata ma tutto questo filone di folklore italiano e trashagine inserite in un contesto veramente da armata Brancolonia l'abbiamo fondato noi di Nerdime mi sento mi sento fiero mi sento Diego è andato Diego ti sentiamo ti sentiamo non ti vediamo non ti vediamo più noi sono contento adesso adesso carica 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 mi è morto tutto il browser forse carica carica internet ma tutto il giorno che lo sta a fa a me me l'ha fatto la settimana scorsa di corrente ma ha bruciato l'hard disk ahia comunque dicevo volevo flexare questa cosa che noi di Nerdime noi avevamo una pagina facebook si parla di dieci anni fa e a mia memoria siamo stati i primi a iniziare a schiaffare dentro della roba tipo Bud Spencer in stile barbaro ma è figa sta roba dai in dubbio che è fighissima tutte stronzate e da lì abbiamo il meme Elfie Boy c'ho il meme ragazzi ragazzi c'ho il primo meme originale di Elfie Boy tipo proprio photoshop c'ho io quindi quindi mi sento mi sento di essere mi sento di poter flexare una delle poche cose nella mia vita bisogna portare Elfie Boy ai livelli di tempo e forza si Elfie Boy penso che sia stato una delle cose che ho detto tipo nella mia vita che ha avuto più risonanza mediatica in assoluto in Italia cioè è diventata una canzone in Anoworld no allora io lo fa una domanda un po' cioè ritornando all'inizio perché in realtà questo era l'episodio pilota e doveva un po' ripercorrere tutte le nostre esperienze e volevo chiedervi come mai vi siete avvicinati a questo mondo cosa vi ha spinto cosa vi ha attratto fammi pensare per me è stata devo dire quasi casuale per certi versi casuale addirittura per certi versi sì è stata è stata una una grande sorpresa secondo me io tipo ero molto clueless da bambino su molte cose no ricordo di aver sempre avuto una passione in generale per il medioevo ok proprio da bambino ricordo i miei bei libroni che parlavano di cavalieri armature e robe del genere deve essere stato probabilmente una combinazione di film che mi ha fatto inscimmiare tanto su questa cosa qua metti di aver visto una storia infinita metti di aver visto un dragon heart però sono piaciuto a tante persone questi film perché proprio a noi page master bravissimo bello page master ricordo di aver avuto sempre questa passione del cavaliere c'erano varie passioni ovviamente da bambino quindi cavalieri pirati sai no quelle tipiche cose che ti piacciono e mi ritrovai poi all'elementari dove ci vuole sempre l'assist sai no del fratello più grande del tuo compagno di classe che ne sa di più e quindi che parlò già le prime volte di D&D e io ricordo questa ovviamente parli di D&D perché è la prima cosa che c'è il gioco di ruolo per Antonio Masi Labirint Labirint assolutamente io ricordo che proprio il sarà stato in terza quarta elementare probabilmente la scoperta che esistesse qualcosa tipo un sistema di regole un qualcosa che era qualcosa che già facevo io perché mi ricordo che quando giocavo con i miei amici elementari si roleplayava di già cioè diciamo che io ero esatto noi giocavamo alle cosiddette avventure c'è Diego che è saltato è morto di nuovo Diego di nuovo raga per noi sì ti sentiamo di E non ti vediamo però probabilmente c'è un po' però non so se la chat cioè magari in live da te ti si vede da me no adesso sei succede solo nel computer da streaming in quello da gaming no mi si refrescia fin quando è una refresciata poi ci sentono esatto è sicuro io ricordo io penso che per me il gioco di ruolo come lo intendiamo oggi sia stato un bisogno fisiologico che ho avuto da sempre tipo magnare cacare scubare praticamente bere quando io mi ricordo elementari all'asilo giocavo con i miei amici le chiamavamo le avventure cioè che ognuno di noi diceva di essere qualcosa sai no io sono il cavaliere io sono il diavolo tu sei l'angelo così stavamo facendo di fatto roleplay quando poi all'elementario ho scoperto che esisteva effettivamente un qualcosa di più cioè nel senso esistevano dei sistemi esistevano dei manuali che potevi comprare per me si è aperto assolutamente un mondo ero ero gasatissimo io mi ricordo che per anni sognavo tipo dopo aver preso i manuali che tipo facevo gli incubi che mi si rovinavano i manuali cioè io io volevo così tanto bene a quei cazzo di manuali che mi sognavo ogni notte tipo non lo so che mi cadevano in una pozzanghera che si bruciavano e mi svegliavo e dicevo no 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 andavo a controllare e perché tu non hai avuto mia nonna ti dico di la verità che succedeva effettivamente mia nonna mi ha nascosto i manuali mia nonna mi ha nascosto i manuali tipo sotto una statua della madonna che aveva nell'ingresso o nei cuscini o l'ha messi sotto sale perché pensavo che fossero robe del demonio oh madonna che cazzo ok classica classica roba è un gioco satanico effettivamente il manuale dei mostri che era il necronomicon visto nell'armata delle tere con l'occhio in centro sopra tutto coperto di pelle diciamoci la verità bello tutto ma per una vecchia di è un po' inquietante quindi mi stai dicendo che cioè capisco questa cosa dei film dell'ambiente però tanta gente ha vissuto la storia infinita anche i miei genitori però non sono mai diventati vabbè poi mio padre in realtà un pochettino sì però mi madre mi aveva sempre la storia infinita famosissima tanta roba però non è mai andata in quella direzione mi madre fa l'art sì fiabella fiabella fa l'art cioè alla fine che ci puoi fare niente comunque anche lei è così e tu vuoi? io pure sono arrivato per caso per caso sì perché io ero un outcast invece cioè ero uno di quei bambini che non stava mai con nessuno ok e poi ho morto papà che avevo 11 anni sostanzialmente mi sono chiuso in me stesso tantissimo ok a 16 anni ho ritrovato un vecchio compagno degli elementari che giocava che io ero l'incontro è stato così io sotto la pioggia a fumare mille sigarette a mare come una merda nel mio paese da 10.000 persone lui passa con la macchina rubata alla madre noi stiamo andando a giocare di ruolo che vuol dire vi è sono andato a casa di questo amico più grande che era ci avete presente i classici zii i ragazzi di 30 anni quando tu ce n'hai 16 andiamo da quello e mi si apre questo mondo dove c'erano 7 persone pizze, canne giochi di ruolo dati sopra il tavolo dico oh porca troia che cazzo è sto 4 ore come un cretino così immagino la sensazione proprio il mio dio esiste qualcosa che è proprio me cioè questa cosa è me esatto cioè io non ho saputo ricollegare in realtà quello che diceva Max del visto da bambino non l'ho saputo associare ma la parte quella di 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 comunione di qualcosa di quasi sacro attorno a quella cosa dove tutti ci credevano e ci giocavano e stavano tranquilli si rideva sempre sì si buttavano pure le urla si urlava parecchio però era comunità era comunione e io così ho ripreso a cominciare a giocare di nuovo a 16 anni quest'anno ho fatto 20 anni di onorata carriera a giocare e mi ha preso la scimmia 86 86 ok siamo più o meno si tutti quanti coetanei e e io mi sono fatto tipo a 17 anni 18 anni il primo torneo di D&D a Modena che quando non esisteva ancora la play c'era il modcon ed era una polisportiva occupata da degli scappati di casa che giocava alla qualunque ok e nel tempo questi chi ha aperto il negozio di giochi da tavolo chi ha aperto il ludopub chi è diventata mega casa editrice la la editrice giochi faceva i tornei organizzati di risico quello a tempo era un mondo spaziale mia madre lavorava a Reggio Emilia venne una volta sette con le mani nei capelli perché non si faceva capace di come potesse essere possibile che i vecchi giocavano con i bambini si giocava a carte cose così e là la ci si cioè io là ho detto ok questo vuole essere parte del mio mondo voglio che questo diventi il mio mestiere cioè questa roba qua deve essere il mio mestiere Avellino mondo a parte e l'hai fatto cazzo te ce l'hai messo e l'hai fatto eh lo so però ho sbagliato prima strada perché facendo il videomaker prima ho provato a capire cose poi è arrivato a un certo punto in cui non ce l'ho non ce l'ho fatta più e se otto anni fa è normale sta esplodendo tutto ma vabbè Diego qua è tutto a posto da te a vedere ogni tanto se bloccano le vostre cam si rifrescia Google so che tirà un pugno a me si blocca a caso Spotify che mi toglie la musica sotto non ho idea perché io Spotify l'ho fillato Stai ma non si doveva fare no è tutto sono dei poteri forti che stanno impedendo è il libro quello di Bove quello della Madonna questi sono i poteri pertici che stanno sono gli assassini della Wizard of the Coast che adesso esatto che adesso verranno io invece mi sono avvicinato a sto mondo secondo me non per caso secondo me io l'ho voluto sono sempre stato incuriosito pure io da questa roba però non ho mai avuto voglia e alla fine ho beccato delle persone che lo facevano già per fortuna non mi hanno attaccato la malattia di Magic e di Pokémon però però meno male io ho avuto un piccolo periodo Magic però è durato veramente terza mezza però per quanto riguarda D&D ho conosciuto vabbè io all'inizio stavo vabbè frequentavo ambienti un po' di destra truzzi coatti sì maranza romani maranza dei castelli insomma un po' così e poi piano piano mi sono rotto il cazzo su quell'ambiente perché a me non piaceva in realtà io non volevo essere così ecco là di nuovo ho rifresciato tutto anche a voi crashato no ma ho rifresciato la chat e alla fine niente mi sono rotto il cazzo ho conosciuto i miei amici dei castelli quelli proprio classici e mi sono avvicinato al mondo prima metallaro rockettaro che non so perché in qualche modo sono interconnessi il rock il metal e il nerdy a me piace studiare il pattern perché se penso anche alla mia storia musica interessi sono tutti collegati cioè non mi hai capito frequentavo ma cago no no dopo quello perché cazzo il metal il rock il mondo quel mondo lì del musicale è corne è corne è connesso a quello nerd cioè perché i nerdoni la maggior parte ascoltano sono d'accordo con Bob sono d'accordo con Bob ascoltano il metal ascoltano il rock però non tutti perché ho conosciuto anche dei ragazzi che fanno T&D che invece sono dei guazzi che fanno però però essendo due categorie di outcast diverse è ovvio che trovano sfogo nello stesso tipo di ambiente o in questi di